Nome, Ambra, Berenice, Cognome, Tintore, Pironi, Comune di Scarpa, 40, Abbondante, 40 Stringente, Segno Zodiacale, Bilancia, Farfalla, Stato Civile, Nubile, Smanitata, Canti sotto la doccia? Non ho la doccia, quindi nella vasca. No, sotto la pompa. Ti piacciono altri sport? L'atletica leggera. Giardinaggio artistico. Il tuo giornale quotidiano? Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera. Secondo comandamento? Amma il prossimo. Passo il prossimo dopo il primo? Quarto comandamento? E tieniti il primo, il prossimo, l'altro e il quarto. Assumi sostanze stupefacenti? No. E cosa mi ha preso? Presi un infomale. L'ultimo film visto? Manuale d'amore. L'amore a mano. Chi è l'attore? Uno. Si vedeva solo la mano. Il programma che non ti piace? Maurizio Costanzo Show. Show, anche la moglie. Quanto serve essere belle? Serve. Alla Sera non serve. E avere un bel culo? Se fai la velina, ha tutto. E se si rompe la velina, si vede la mutandina. Come vedi la donna in carriera? Toga. Torna a casa lei, sì. E la casalinga? Torna a casa linga. Alto o basso? Alto, alto. Per forza. Venito non lo voglio. Hai paura del tappo, vero? Ti ricordi la prima volta? Chi ti ha detto che c'è stata? Eh, non ci stavo, ma c'è stata. E la seconda? Iden come sopra. E com'è sopra? E l'ultima? Come sopra e patate? No, le patate solte e le uova sbattute. A che tal primo bacio? Non ricordo. 44. A che tal primo rapporto sessuale? Secondo voi? Il giorno prima. Ci deve essere un errore. Nella fretta si era dimenticato e tornato il giorno dopo. Un porco. Non conosce anche lei. Un uomo di modello ideale? Non l'ho ancora conosciuto. Un uomo chiamato cavallo. Cosa detesti in un uomo? Gli zuccoli. Cosa guardi di più in un uomo? Il cavallo. Lo sguardo. Che cosa ami in un uomo? Il suo lato femminile. L'altro lato. Il sesso conta? Sì. E già mi rimango conto che ti canto? Da 1 a 10? Non basta.